Il mondo del Bitcoin sta per finire non tanto il Bitcoin e tutte le altre criptovalute, quanto piuttosto il loro environment ed il loro mondo. Ora non so quanti di voi abbiano mai sentito parlare della MICA, che è un acronimo che sta per Markets in Crypto Assets, che rappresenta una proposta vagliata dal Consiglio Europeo per la regolamentazione di tutta la criptosfera all'interno dell'Unione Europea, andando a modificare quelle che sono alcune direttive chiave per gli strumenti finanziari in Europa. In buona sostanza di che cosa stiamo parlando? Questa è una proposta datata 24 settembre dello scorso anno, quindi è recentissima, che è stata concepita dalla Commissione Europea con lo scopo di gestire e normare tutto il mondo della criptosfera, in particolar modo i criptoasset. Ha delle ripercussioni qualora più avanti, e lo sappiamo che sarà così, il Parlamento Europeo si dovrà pronunciare sulla base di questa visione, rappresentazione che fa un organismo tecnico dell'Unione Europea per quelle preoccupazioni e paure che abbiamo sempre avuto tutti nei anni precedenti. Si tratta solo di aspettare, in buona sostanza vogliono parificare la gran parte dei criptoasset agli strumenti finanziari regolamentati, tant'è che all'interno di questa proposta, che è costituita da 50 grafiche scaricabili direttamente dal sito della Commissione Europea, fa chiaramente comprendere quelle che saranno le aree di intervento, perché si va dai token agli stablecoin fino ai cripto service provider, mi pare siamo a pagina 32 sui cripto service provider, fa comprendere quelle che saranno tutte le problematiche a cui dovranno affrontare le società, le legal entity che in Europa offriranno servizi legati al mondo cripto. Ripeto, stiamo parlando sempre di entità legali che sono pasportizzate in Europa, pertanto lì dovremmo anche richiamare quelli che sono poi alcuni exchange abbastanza noti che operano nel mercato europeo, assieme congiuntamente a altri operatori e broker che hanno una propria posizione all'interno dei paesi europei. Si tratta letteralmente di un cambio di scenario epocale, perché quando il Parlamento Europeo, che si dovrà esprimere per modificare alcune direttive, una di queste è la famosa MIFID 2, per far inserire all'interno degli strumenti finanziari alcune categorie dei cripto asset, ma sono per la maggior parte tutti, quindi si va dai tokens alle cryptocurrency fino alle stablecoin, che dovranno essere trattate come se fossero un qualsiasi strumento finanziario regolamentato. Questo significa letteralmente la fine del mondo bitcoin, cioè tutto quello che è stato concepito per essere fuori dalla finanza cosiddetta convenzionale, ordinaria e tutti i suoi organismi di vigilanza e controllo, che cosa sta facendo la finanza anche per gestire tutto questo fenomeno che sta scappando di mano, ricordiamoci anche il ruolo emergente che ha la DeFi, è normarlo, utilizzare tutti gli strumenti a livello normativo che sono in loro possesso per mettere dei paletti soprattutto nei confronti di chi? Società che offrono servizi legati al mondo cripto, in tal senso dobbiamo richiamare gli exchange che sono fondamentali perché da lì passa poi il denaro cosiddetto convenzionale, gli euro e i dollari vengono cambiati per le principali main altcoin. Poi successivamente tutte le altre società che si occupano di fornire ad esempio carte da utilizzare per il mondo cripto o per le proprie dotazioni, non vengono toccate per adesso, almeno da quello che si evince da questa proposta che serve per fare un quadro al Parlamento europeo sul quale poi dovrà esprimersi in tal senso il mondo DeFi, però il mondo DeFi, quindi in particolar modo anche alcuni exchange decentralizzati non dovrebbero essere toccati, però sappiamo benissimo che operare all'interno di exchange decentralizzati ci sono sicuramente delle convenienze ma ci sono anche elevatissimi rischi e soprattutto in tali casi bassissima liquidità, un conto è cambiare 1.000-2.000 a dollari o controvalore in euro, un conto è andare su 100.000-250.000 euro di controvalore su un exchange decentralizzato, io non lo farei mai. Ecco, la proposta che vi invito veramente per chi ha delle posizioni pesanti su le criptovalute o sui criptoasset, di andassela a leggere, magari nei prossimi giorni faremo un approfondimento ulteriore su quelle che sono le proposte chiave, tra cui c'è quella di considerare almeno la soglia dei 5.000.000 di controvalore per, ad esempio, le emissioni dei token o per la gestione dei stablecoin, che significa da un punto di vista pratico far rientrare tutti all'interno di questa categoria, cioè tutti quegli strumenti diventeranno, tutti quei criptoasset diventeranno strumenti finanziari regolamentati, significa mettere le manette letteralmente a livello normativo a tutti i soggetti, faccio in tal senso anche un richiamo alla società stessa mia che opera come incubatore finanziario in Italia proprio sul mondo dei criptoasset, quando è nata questo tipo di environment non esisteva e soprattutto non si prevedeva di arrivare a questo tipo di framework operativo. Ripeto, è una bozza, è un quadro complessivo che servirà poi al legislatore europeo che dovrà demandare la nuova MIFID 2 andando a retificare tutte quelle posizioni chiave che servono per comprendere finalmente anche dove si vanno a posizionare i criptoasset. Questo significa che per chi gestisce società, ad esempio, deve cominciare a mettersi in testa che i criptoasset, le criptovalute, i digital asset più avanti quando e se il Parlamento europeo non farà eccezione in merito a questo tipo di rappresentazioni, dovranno essere considerati praticamente al pari delle azioni, delle obbligazioni, dei fondi, degli ETF con tutta una serie di problemi poi pratici anche per sia la contabilizzazione che eventualmente la sollecitazione di determinati servizi nei confronti del pubblico a retail. Vi lascio in nota integrativa nel link in descrizione il link per andarvi a scaricare direttamente la proposta della Commissione Europea con poi tutto il suo impianto che vi servirà per comprendere quelli che sono i punti chiave che andranno a modificare tutto l'environment del cripto-sfera non solo in Italia ma praticamente in tutta Europa richiamando appunto la Mika Markets in Cryptoasset.